incidenti felici oggi cambio impostazione sono tornata alle origini e sono il mio vanity table perché voglio fare un tutorial sul mio trucco da tutti i giorni il mio trucco quello veloce che faccio quando voglio sembrare struccata ma in ordine e andare per andare a fare la spesa per non sembrare uno zombie insomma per per buona usanza verso il creato per non spaventare tutti quanti e non filmo più da questa postazione perché non ho più il tre piedi infatti voglio farvi vedere la mia postazione questo è il mio portapenelli e la mia postazione con i libri e il tre piedi piccolino perché quello figolo rotto qua ci sono io ciao e io lavoro così anzi oggi pure in ordine giusto per darmi un'idea nel frattempo già messo la base che come vedete è molto naturale ed è la skin tint di fenty beauty numero 3 che non non mi pesa praticamente non la sento dal vivo non si vede è impercettibile mi piace un sacco mi piace veramente tantissimo poi metto un correttore lo metto sulle zone scure e qui è un po anche qua ok e lo suono con la mia beauty blender della revolution questo è il correttore di clio di clio makeup shop che mi piace veramente tantissimo la mia colorazione è 5.5 non mi copre del tutto gli occhiaie per un semplice motivo e io ho i solchi ho i solchi non ho solo l'iperpigmentazione intorno agli occhi ho proprio solchi ma soprattutto quindi fa un ottimo lavoro perché l'iperpigmentazione me la copre da paura ma soprattutto volevo farvi vedere questo che la mia beauty blender della revolution era parte della collezione del trono di spade ecco brava cadi quanto è bello il mio trono di spade me l'ha dipinto un mio amico che fa miniature non era così bello non lo trovate così bello questo qua è personalizzato guardate quanto è fico aha aha mini flex quanto riguarda la cipria uso la mineral ice skin finish di mac nel mio caso è la light plus ed è così qua potete vedere i libri è tutto l'accrocchio è meravigliosa super fine è impalpabile secondo me va bene anche per le pelli secche anche questa è impercettibile ha un effetto molto naturale non la consiglio alle pelli grasse questa qui secondo me va bene massimo pelle secche e pelli miste ma non per pelli grasse per pelli grasse vi consiglio altre ciprie tipo la invisimat di fenty però anche questa per me è difficile trovare i colori delle cose perché ho un tono un po particolare la light plus per me è perfetta un'altra cosa che consiglio sempre è una base occhi io uso il painterly paint pot di mac ma potete usare quella che volete ormai tutti i brand ne fanno una e Kiko ne ha una essence ne aveva una adesso non lo so più perché non uso quasi più essence Urban Decay Too Faced e perché una base occhi è importante è importante perché permette all'ombretto di durare tutto il giorno altrimenti vi finisce nelle pieghe ed è brutto da vedere e quindi non va bene nel mio caso uso painterly perché io ho un sottotono freddo se avete un sottotono caldo prendete soft ocre che è più giallina se siete più scure mi sembra che vada bene berstadi non mi ricordo bene il nome però mi pare che sia berstadi e nel dubbio mentre cerco un pennello vi faccio vedere questa cosa qua aspettate il mio bellissimo porta pennelli qua tutto ho fatto cadere a forma di bara e dentro è viola me l'ha fatto il mio migliore amico perché l'ho visto su Pinterest preso da un'idea da Pinterest è bellissimo allora la mia palette preferita per il look di tutti i giorni è questa che lascia del light hai di Kat Von D che purtroppo non fanno più è ottima perché è piena di toni neutri matt e sono divisi già in look preimpostati è divisa in quad da quattro ombretti grazie sono quad ma vabbè l'adoro perché si sfumano da soli e dunano tutto il giorno anche usando il correttore come base veramente un peccato che non la facciano più KVD Beauty se mi senti riporta indietro riporta indietro la shade and light hai di Kat Von D per cortesia mi serve grazie questo qui è il quad che uso per tutti i giorni per avere un look un po' più leggero questo lo uso la sera per quando voglio fare gli smokey eye di solito e questo qui è un per quando voglio un look un po' più caldino magari quando mi abbronzo l'estate le rare volte in cui succede infatti di solito questo qui è il quad che uso di meno prendo il colore più chiaro quello più piccolo non quello più grosso lo tappo sulla palette per togliere l'eccesso e lo metto sulla palpebra mobile fino a metà per dare un po' di luce all'occhio ovviamente su di me si vede poco perché sono bianca come un muro e lo porto fin qui ovviamente oggi ci metto di più a preparare a fare tutto il look rispetto a quando lo faccio da sola perché sto parlando con voi ovviamente di solito ci metto dieci minuti per fare tutte cose adesso prendo il baroncino quello un po' più chiaro e lo applico nella seconda parte dell'occhio per dare tridimensionalità lo applico qui la cosa che mi piace un sacco degli ombretti di Kat Von D non so se quelli nuovi sono così però quelli vecchi sì è che sono estremamente sfumabili si sfumano da soli e l'effetto che sto cercando di dare che voglio dare con con il marrone più chiaro è quello di cioè do tridimensionalità agli occhi per renderli più tridimensionali ok qua adesso prendo questo pennello qui che è quello che viene dato in dotazione nel paletto di Anastasia e che è cicciottino ok è cicciottino però non è da sfumatura pienamente è un po' più sottile e prendo il marrone quello un po' più scuro batto sempre il pennello perché altrimenti poi fa macchia e metto il colore qua nella piega per renderla per renderla più definita e la metto e la metto qua come vedete c'è la stessa cosa dall'altra parte state attenti a non metterne troppo perché altrimenti poi non lo sfumate mai più metterne poco quando avete a che fare con i colori scuri meglio metterne poco alla volta che troppo tutto insieme perché è un po' come la cucina no? e aggiungere è più facile di togliere poi prendo un pennello da sfumatura questo è il 2.17 di MAC e sfumate andate avanti e indietro sfumate 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 qua e c'è anche la scuola ibrida io sono un po' della scuola ibrida ovviamente mi sono venuti diversi vediamo di non aggiungere troppo mi è mai capitato di truccare a me è capitato spessissimo mi è mai capitato di truccarvi e di mettere un po' troppo prodotto quindi vi trovate ad aggiungere 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 e alla fine vi ritrovate ad assomigliare a delle signorine della notte alle 10 di mattina a me è capitato spessissimo con l'eyeliner ma tipo sempre comunque sfumate finché il risultato non vi aggrada e nel mio caso mi aggrada in questo caso uso l'acquery mascara di extra landia che all'inizio non mi piaceva vi dirò dopo una quindicina di giorni adesso sto iniziando ad apprezzarlo di più e allunga discretamente le ciglia e soprattutto è a prova di lacrima e questa cosa per me è super importante perché soprattutto d'inverno poi abito in Friuli è un posto ventoso lacrimo tantissimo e questo qui resiste oggettivamente alle lacrime sono andata al cinema a vedere The Whale con questo mascara addosso pianto come una fontana avevo le lacrime fino alle ginocchia e non è andato fuori posto quindi è a prova di The Whale è a prova di di Friuli di Strappa Lacrime quindi direi che direi che ok e metto il mascara quando voglio fare particolarmente la figa uso anche il piegaciglia so che in camera non si vede la differenza perché io ho le ciglia dritte così non incurvano neanche se prego tutti i santi vorrei fare la laminazione ma non ho tempo non ho voglia non ho soldi e quindi per ora me le tengo così poi di solito metto il mascara perché e lo lascio asciugare mentre faccio il contouring o il bronzing dipende come mi gira durante quel giorno perché se mi viene da starnutire altrimenti poi e non faccio asciugare il mascara poi mi schifo tutta mi sporco tutta ed è una cosa che mi fa andare fuori di testa quindi metto il mascara per il contouring uso questa palette di NYX professional makeup di contouring e illuminanti e uso di solito questo colore qui che ho un po' più chiaro per fare il contouring mentre se sono in un posto oppure devo filmare uso quello un po' più scuro perché così definisce la mia la mia struttura del viso meglio la uso anche qua per coprire il doppio mento perché un po' siamo siamo fornite e con un pennello angolato così prendo colorino così e vado qui ok seguo faccio così seguo la linea e metto il prodotto più o meno fin qua non vado più giù perché altrimenti sembro una bambola assassina perché altrimenti sembrate delle bambole assassine tipo Annabelle ok sembrate finte si nota troppo e lo metto qua io non capisco perché in camera viene rosa vi assicuro che non è rosa è del colore giusto mentre per il doppio mento se voglio fare una cosa un po' più pesante uso questo qua prendo il colore e lo uso qui e creo una zona d'ombra d'ombra qui sotto e nel giorno e nel giorno in cui mi sento particolarmente ispirata oppure sono un po' più gonfia faccio il contouring anche qua così sembro più sembro più sembra che io abbia una mascella e non sembri un marshmallow prima avevo una mascella molto definita e poi è arrivata la vecchiaia e quindi adesso devo fare il contouring qua sotto e in più faccio un po' di contouring qua sopra perché ho la fronte un po' spaziosa neanche troppo in realtà però e faccio un po' di contouring qua e poi prendo sempre il colore quello un po' più chiaro e un pennello un po' più di precisione e faccio un po' di contouring al naso questo lo faccio solo quando quando faccio video siccome dopo devo filmare dei video ne approfitto altrimenti quando esco non lo faccio il contouring non lo faccio mai metto la terra e basta faccio un po' di contouring al nasino ok per quanto riguarda il blush uso questo blush di Kiko che è il l'unlimited blush 06 che è questo colore un po' mattone è un po' si è un po' un colore mattone e uso prendo un pennello così e lo metto qui e lo applico in questa zona in camera non si vede tanto ma dal vivo si e lo metto sempre qui per darmi un'aria un po' più un po' più fresca un po' più sana e fine qua sulle guanciotte per non farmi sembrare completamente un cadavere e mi raccomando anche qua non andate oltre all'iride perché altrimenti poi avete l'effetto anche se in realtà va un sacco adesso l'effetto mascherina qua sul naso se volete farlo farlo fatelo però secondo me non è proprio bellissimo ecco detta proprio e mi dà questo bello aspetto sano mi raccomando usate il blush io l'ho sottovalutato per anni e per anni non ho usato il blush l'ho schifato pure invece adesso mi piace da morire poi prendo sbrilluccico dalla palette di camioc per we make up ovviamente non si vede un clean e un pennello dov'è che dove è andato pennello dove sei povero pennello ha perduto la compagna e vabbè usiamo l'altra parte sempre questa parte qua del pennello e lo metto sotto qui per dare un po' di sbrillini un po' di luminosità allo sguardo e agli occhietti va bene anche una matita colorata tipo argento argentata dorata o un ombretto con i brillantini un po' glitterino però non troppo appariscente ecco secondo me sbrilluccico di we make up è perfetto mi avvicino per vedere se si vede si un po' si vede l'ho messo qui sotto per quanto riguarda le sopracciglia o le lascio così io sono una persona che si fa pochissimo le sopracciglia e non ci sto molto dietro anche perché non ho l'unibrow non ho il monociglio quindi ci sto poco dietro ma quando le faccio uso questo prodottino qua di Astra che ha tutta la scritta cancellata mi pare che si chiami Geisha Brows nel colore 03 e ha la confezione così col pennellino io uso il pennellino che c'è dentro e niente do una passata super veloce così per definirle un attimo per dare un po' di definizione alla coda ma poi fine anche perché se le riempio troppo su di me mi sembra di essere marrabbio di chi smilicia e quindi per evitare l'effetto marrabbio evito di definire lavorare troppo le sopracciglia prendo un pennellino così oppure posso prenderne anche dov'è 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 le prendo anche posso prendere anche uno così e le pettino un pochino e uso a volte uso anche il gel per tenerle un po' ferme oggi non c'ho voglia e quindi non lo userà anche perché me le fa me le fa sembrare troppo composte non sono una fan della laminazione prima che me lo chiediate non sono una fan della laminazione o comunque non sono fan delle sopracciglia troppo artefatte ecco e quindi niente sopracciglia finite per finire le labbra uso blecone di Clinique famosissimo celeberrimo che blecone di Clinique perché ultimamente ho le labbra secche altrimenti uso una tinta per labbra e niente come vedete ha un effetto estremamente naturale e dà un po' di vita mi dà un po' di vita alla bocca perché ho le labbra molto pallide e quindi molto carino e niente mi sono pettinata i capelli ed ecco il mio look da tutti i giorni il mio make up no make up il look che faccio sempre spero che il video vi sia piaciuto mi raccomando seguitemi su tutti i social perché come la cattiva erba io non muoio mai e sono dappertutto mi raccomando fatti bravi e buonanotte e buone botte